Circa 300 volontari dall'entroterra cilentano non dovranno più recarsi a Vallo della Lucania per donare il sangue ed eviteranno così di percorrere decine e decine di chilometri. L'alternativa alla chiusura del centro trasfusionale dell'ospedale di Roccadaspide è stata trovata dall'amministrazione comunale retta dal sindaco Gabriele Iuliano, che ha raccolto la richiesta del presidente dell'UDR Avis Comunale Agropoli, Rosario Capozzolo, autorizzandolo ad organizzare attraverso autoemoteche della stessa Avis delle raccolte straordinarie che a Roccadaspide inizieranno venerdì dalle ore 8 alle ore 12. Le autoemoteche saranno disponibili anche per i venerdì successivi e fino a quando il centro del nosocomio rocchese non sarà riallestito e riaperto. Si tratta di una soluzione momentanea ma di grande aiuto per gli abitanti delle aree interne. Molti donatori infatti si sono ritrovati negli ultimi mesi a dover rinunciare alla possibilità di donare il sangue a causa della distanza dal centro più vicino, ossia quello di Valo della Lucania. Intanto sia Iuliano sia il vice sindaco Girolamo Ricchio stanno continuando ad inviare istanze ed appelli alle autorità sanitarie locali per sollecitare la riapertura del centro trasfusionale, la cui chiusura avvene a dicembre per un motivo facilmente sormontabile. I locali in cui sorgeva furono sgombrati per fare spazio ai cantieri utili alla realizzazione dell'ospedale di comunità. I nuovi locali individuati all'interno del nosocomio per accogliere l'ambulatorio non sono stati mai allestiti poiché occupati dai documenti d'archivio dell'ex ASL 58 e dall'ASL nessuno ha provveduto ad organizzarne lo sgombero.